Ciao, un salve e un saluto di cuore da Simonetta a tutte voi e a tutti voi che seguite il canale. Andiamo anche oggi ad apprendere un rituale, un rituale dall'apparenza semplice ma molto potente, se le circostanze hanno un minimo di presupposto molto potente per far tornare, si dice in cinque minuti, la persona desiderata. La persona che noi desideriamo è che chiaramente o ci ha bloccato o non ci chiama più, o ci chiama veramente poco, o si fa sentire poco, o si è allontanata e quindi questo lavoro vi servirà per fare un potente richiamo verso la persona che purtroppo non si comporta in modo appassionato, anzi si comporta in modo disinteressato direi, o freddo o via bloccato o mille altre cose. Questo lavoro può essere fatto donna per uomo, uomo per donna, donna per donna, uomo per uomo, non ci sono ovviamente limiti dal punto di vista del sesso, chiunque lo può fare. È un lavoro che prevede anche questo, pochi e semplici ingredienti come la magia antica ci è sempre insegnato, ma va fatto passo dopo passo, come vedete che vi spiego ovviamente nei video. Allora, come sempre abbiate cura di avere un piattino di lavoro dove lavorare, quindi di coccio, di vetro, un piatto di casa pulito e lavato, poi se volete usare magari anche quelle vaschettine di stagnola, potete usare anche quelle per lavorare, non c'è nessuna differenza. Vi servirà una candela bianca a stilo, adesso vi metto l'esempio di questa, una candela bianca, colore bianco. Non bisogna cercare colori particolari perché va bene perfettamente così. Poi un lapis, quindi una graffite, un lapis di graffite, un elemento naturale per scrivere, in questo caso è tramandato così il lavoro, quindi io ve li espongo così come li ho imparati in 36-37 anni. E per lavorare la candela vi serviranno delle forbici o al limite, al limite, un coltello. Io avevo delle forbici sotto mano e lo faccio con questa versione. Poi vedete voi come vi viene meglio. E poi l'ultimo ingrediente importante che vi serve, ve lo mostro, l'avete già visto altre volte, è del miele, del miele di api. Quindi miele, millefiori o di un'altra tipologia, l'importante è che sia miele. È un cucchiaio per chiaramente usare questa sostanza. Allora, come andiamo a iniziare? Andiamo intanto, vado a preparare la candela come la farete anche voi. Ora, questa è una candela che è già stata usata in dimostrazioni, però per noi va molto bene per capire il concetto. Intanto qui si tratta di girare l'energia della testa della persona, quindi del pensiero. E per questo noi andiamo a usare la candela a capovolta. E quando si usano le candele a capovolte, cosa si fa? Si taglia via lo stoppino, quello normale, quello che si trova in cima, si taglia. Io stavo per dire che si corta, ma usando forbici oppure un coltello non è qualcosa di difficile, schizzerà qualcosa. Ma voi avete ovviamente tagliato via la parte superiore della candela, questa, che sarà la nostra base. Quindi la un po' smussate. Poi chiaramente serve un accendino per fissarla. Ecco, io l'ho tagliata un pochino storta. Voi chiaramente con calma vi mettete lì senza problemi e la smussate in modo tale che rimanga più o meno in piedi. Ecco, in questo modo. A questo punto creiamo un nuovo stoppino dalla parte del fondo. E quindi, di nuovo, ne tagliamo un pezzettino sul fondo per creare un nuovo stoppino. È un po' duretta questa candela, ma ce la facciamo con un po' di pazienza, come in tutte le cose. Qui mi viene in questo modo. Poi magari se fate col coltello può essere più veloce, magari... Ecco, abbiamo creato anche qui lo stoppino, quello che va acceso, quello che va acceso. Poso un attimo le forbici, metto da parte un attimo i residui e vi vado a riepilogare di nuovo, carissime, carissime, come abbiamo fatto. Abbiamo tagliato via lo stoppino, quello normale, quello naturale, che poi è questo, e abbiamo creato un nuovo stoppino, ovviamente, dalla parte opposta. Su questa candela girata voi andate a scrivere con il lapis il nome e il cognome, partendo ovviamente dalla base, dalla base tagliata, è quella dove abbiamo creato lo stoppino nuovo. Quindi scrivete nome, cognome della persona, se volete data di nascita, però è già sufficiente il nome e il cognome, e scrivete poi con un pochino di pazienza il vostro desiderio. Per esempio, Mauro, contattami e chiamami. Oppure, Mauro, torna da me. oppure potete scrivere il vostro desiderio, Mauro diventa dolce e appassionato per me. Oppure, Mauro, da adesso tu mi cercherai. Quindi i desideri sono tanti, ma bene o male la finalità è quella di far tornare questa persona nella vostra vita. Quindi quella di riattirarla, riattirarla velocemente nella vostra vita, di farle cambiare idea, o farle cambiare idea. Allora, poi sul fogliettino di carta, quello ovviamente bianco, non deve essere tanto grande, perché le dimensioni sono abbastanza ridotte in questo lavoro, su un fogliettino più o meno così, andate a scrivere, non i dati della persona, perché quelli sono sulla candela, andate a scrivere i vostri, perciò io scriverò Carla Boschi e la mia data di nascita, perché giustamente la so, 17 4 1980. Esempio. Quindi ricordatevi che sul foglietto, in altre ritualistiche, come avete visto, ci scriviamo i dati della persona. In questa ritualistica scrivete i vostri dati, per una volta sola, per una volta sola, con un lapis. Ok? Pieghiamo anche così, uno in quattro, in quattro, in cinque, come volete, non importano le volte effettivamente, piegate comunque il fogliettino, questo fogliettino lo mettete nel centro del piatto, più o meno, e poi, ora io non so se mi starà in piedi, vediamo un attimo, perché l'ho tagliata un pochino così, la candela con le forbici, forse ci volevano i coltelli, ma a volte viene così, a volte viene così. Comunque voi, per farvi capire bene, dovete in pratica appoggiare la candela vicino ai vostri dati, al fogliettino magico con i vostri dati. Non ci sta molto attaccata, perché non ho neanche l'accendino in questa camera, quindi faremo una simulazione. Perciò ricordatevi che il piatto viene così, guardate, guardate bene, memorizzate, memorizzate, avete adesso il vostro nome e cognome data di nascita sul foglietto, e avete la candela girata dove avete inciso nome e cognome della persona, che già va bene, anche se non ce l'ha data, va già bene così, e il desiderio vostro. Quindi ripetiamo, Mauro torna da me, sbloccami, oppure Mauro ritorna dolce e appassionato, oppure esempio, Mauro tu devi cercarmi adesso. Parole vostre, esprimete il vostro desiderio, qual è la vostra esigenza, tenendo presente che questo è un lavoro per farvi ricontattare, cercare, sbloccare a tempo, molto molto veloce. Ora l'appoggio un attimo, facciamo finta che sia in piedi, e cosa facciamo? Facciamo questo, apriamo il nostro barattolo di miele, e cominciamo a spargere il miele, lungo intorno direi, più che lungo, intorno e sopra il foglietto. Quindi intorno alla candela, e sopra il foglietto, voi fate un anello, bello abbondante, senza lesinare, coprite anche il foglietto, come sto facendo io, andate intorno a tutto il lavoro, e fate un bel anello di miele. ne prendete un altro po', perché il miele non guasta mai, anzi è un elemento attivatore molto potente, e non guasta mai l'abbondanza del miele. Ecco, comunque questo è già abbastanza, quindi mettiamo un cucchiaio molto grande, o due cucchiai dovrebbero essere sufficienti. Lo rimetto un attimo da parte, e a questo punto avete il lavoro così. Vedete? Ora, non so, provo ad avvicinare, vedete? Il vostro lavoro rimane così. Bene, in questo momento voi mentalizzate giustamente la persona, riesprimete qual è la vostra esigenza di ritorno, di sblocco, di addolcimento, di veloce ritorno, perché questo lavoro, se fatto bene, è molto veloce, è molto veloce, e poi accendete la candela e la lasciate consumare in questo, direi, laghetto di miele, insieme al vostro nome e cognome, finché la candela naturalmente non si spegne. Questo lavoro, una volta che è finito, quindi che tutto è spento, cosa si fa? Molto semplice. Si butta via tutto, i residui che ci sono, si possono tranquillamente buttare via, anche nella spazzatura, non ha alcuna importanza, il lavoro è già stato compiuto, è già stato fatto, non c'è bisogno nemmeno di portarli in natura. Lavate il piatto e lo riutilizzate. Poi, se voi volete ripetere questo lavoro, anche il giorno dopo, il giorno dopo ancora, va benissimo, non c'è alcun problema, però già con una volta, se lo fate molto bene, mentalizzando bene la persona, vedendo già la cosa risolta, quindi affidando questo lavoro magico alle forze universali e all'entità che chiaramente ci girano intorno, alle nostre entità che ci proteggono, già il risultato può arrivare con una sola volta. comunque chi se lo sente istintivamente segue il suo radar interiore e lo faccia una volta, due volte, tre volte di seguito. Comunque la persona vi cercherà molto, molto rapidamente. Provate e sappiatemi dire, provate e vedrete. Mentre io tengo sulla candela perché purtroppo non avevo qui per accendere, ma volevo comunque mostrarvi, anche perché insomma avete capito sicuramente come si fa questo lavoro di ritorno, veramente veloce, fast. Benissimo, amici e amiche, con quest'altro rituale, come tutti, quasi tutti gli altri, quasi la totalità, si può dire il 100%, vi auguro buon lavoro, vi auguro tanta positività, non demordete mai perché i rituali sono cose sacre, sono cose che ci sembrano a volte semplici. Ora, io propongo ovviamente in questo canale rituali fattibili anche dalla donna di casa, dall'uomo che non ha mai messo le mani neanche su una candela o su un tarocco, faccio per dire. Ecco, questi lavori che propongo sono di scuola base, di insegnamento, ma questo non vuol dire che non funzionano. Io ho già avuto tante prove che funzionano, vi sto proponendo lavori testati da tanti anni. Quindi buon lavoro, un abbraccio, un bacio da Simonetta e al prossimo video. Ciao! Ciao!